pagelle di juventus celsi faccio una premessa se noi avessimo dei centrocampisti di qualità oltre a locatelli credo che potrebbe essere una stagione che ci farebbe veramente godere ma veramente godere quindi ho spero con tutto il cuore che altro guarisca e che dimostri di essere un ottimo giocatore un buon giocatore dopo con le pagelle capirete perché ho detto questo cesni 6 ha fatto solo delle uscite praticamente non ho dovuto fare parate pericolose perché le uniche due occasioni del celsi una lucca cui l'altra averse l'hanno tirata fuori quindi non ha mai rischiato la juventus di prendere gol per colpa di cesni non ha fatto cavolate è uscito bene su tutti i palloni alti quindi la sufficienza piena se la prende tutta 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 sandro gli avrei voluto dare qualcosina di più di 6 ma gli do 6 perché poi ha fatto qualche sbavatura sul finale comunque come vedete non è più il sandro che prende due che prende quattro ma è un sandro che è sempre sufficiente è un sandro completamente rinato speriamo che rimanga così ha fatto un paio di sciocchezzuoli in fondo ma ragazzi si sta 95 minuti di corsa contro uno squadrone come il celsi non è una roba da tutti i giorni quindi bravo sandro 6 delict 7 è il nostro delict cresce partita dopo partita allegri visto eh non lo devi muovere deve rimanere lì fisso lui col boni di fianco stanno facendo una coppia centrale meravigliosa stasera preciso non ha fatto vedere la palla lukaku lo guardava lo teneva d'occhio quando era il momento tac lo anticipava e gli portava via il pallone bravo delict ha cercato anche qualche inserimento in avanti qualche lancio però non è nel suo nel suo lui deve difendere 7 bonucci 7 boni boni l'europeo gli ha fatto bene non c'è niente da fare ormai è ufficiale la vittoria dell'europeo lo ha lo ha lui è uno che bisogna di sentirsi motivato e si sente di essere campione d'europa e quindi questa cosa lui secondo me la mette in campo perché sta giocando come non giocava da almeno due o tre stagioni quindi bravo boni 7 anche danilo è tornato il danilo di sarri quindi il buon danilo che abbiamo visto scusate il danilo di pierlo perdono lapsus freudiano l'ottimo danilo che abbiamo visto l'anno scorso anche lui ha dato una mano in difesa ha protetto bene ha cercato di fare dei dai vai non era facile la partita perché il cesse aveva un possesso di palla incredibile ma un bel 7 anche a lui non glielo toglie nessuno scusatevi se ho levo le lunette ma devo parlare di un gioco che si chiama Adrien Rabiot il non è un gioco di ballo è una merda non la merda che si chiama Adrien Rabiot è una merda avete capito cosa ho detto per chi non sa il francese è una roba inverosimile un giocatore insulso un giocatore qua chi era Biot chi era Biot la summa di chi era Biot l'avete vista nel contropiede in cui lui ha libero a destra un giocatore a guidare il pallone che la butta dentro che era se non ricordo bene era Bernardeschi se non ricordo male va bene lui anziché passarla aveva tutto il corridoio libero la lancia avanti di 4 metri in bocca al portiere questo è Adrien Rabiot una pippa di giocatore non potete è proibito dal corano dalla bibbia e dal siddhartha dire che Rabiot è un giocatore di calcio è un giocatore di merda 4 Locatelli 6 stasera Locatelli ha fatto le cose per bene ma non di più ruolo difficile ha sentito l'emozione della champions league ha fatto più contenimento che non proposizione perché chiaramente la squadra doveva proteggere doveva rimanere bassa perché allegri aveva dato questo dettame quindi 6 e va bene così Betancourt scusate ma i peli della barba che mi si staccano perché sapete è finta la barba me l'attacco tutte le sere come di fare sto scherzando Betancourt 6 Betancourt è un giocatore che messo di fianco uno che sa giocare a calcio in una squadra che è ben quadrata fa la sua figurina ecco non è che sia chissà che purtroppo un paio di volte ha provato a cercare di fare dei dai e vai e ha sbagliato il passaggio perché lui purtroppo i piedi ce gli agrezzi però lotta si impegna è un leone quindi io non posso dargli meno di 6 bravo Roderigo 6 anche stasera Berna e io il Berna stasera do 6 e mezzo io non do i mezzi ma proprio per lui stasera do un mezzo do 6 e mezzo decidete voi se chiamarlo 6 e mezzo o dal 6 al 7 perché ha fatto un assist meraviglioso per il gol di Chiesa ha difeso il pallone ha lottato ha fatto 25 minuti di primo tempo veramente di alto livello peccato che sia mangiato il gol del 2 a 0 perché quello lì è un gol che vi da vendetta però lui non è un centroavanti ci sta che un centrocampista Barrala sul più bello sbagli il gol quindi Berna continua così perché puoi giocare puoi provare la giocata 6 e mezzo Chiesa devo spendere altre parole per Chiesa? Chiesa farebbe diventare credente anche un ateo Chiesa è un giocatore meraviglioso Chiesa probabilmente ha le stimmate del fuoriclasse ma noi ancora non le vediamo è solo questione di avere pazienza e vedere come giocherà questa stagione e poi se continuerà così perché signori quello che fa Chiesa lo fanno in pochi ma veramente in pochi queste sono le giocate che fanno Mbappé che faceva Ronaldo che li faceva i Messi li faceva il Neymarquilo d'Oro quindi Chiesa 8, 8, 8 tutta la vita, 8 non ti do 9 perché non ti voglio che ti monti la testa 8 ma sei immesso sei immesso un bacio Chiesa adesso la coppia Stali e Olio che sono Kenny Olio e Kuluseschi Stali che sono due giocatori vergognosi messi in campo freschi perdevano tutti i contrasti arrivavano sempre in ritardo su tutti i palloni si facevano fregare la palla hanno sbagliato tutti i passaggi il duo Stali e Olio McKennie e Kuluseschi prendono entrambi quattro perché stasera abbiamo vinto e sono felice altrimenti beccavano due poi abbiamo Ken e Chiellini che beccano un SV a Chiellini gli dovrei dare un'insufficienza perché la prima volta che ha toccato la palla ha fatto falla ovviamente ci fa beccare gol però voglio dire dai lo perdono perché è entrato in campo talmente avanti e lo stesso lo dica sì per Ken che ha cercato di lottare ma diciamo che si ricorda solo per aver tenuto la palla ferma sul calcio d'angolo quindi SV a Chiellini e a Ken e adesso l'allenatore l'allenatore che ultimamente sta prendendo insufficienza in campionato da me anche se la Juventus ha vinto due partite ma non era piaciuta la preparazione io stasera ad Allegri do 8 io do 8 perché Allegri non me lo sono dimenticato ci ha portato due volte in finale con due squadre che una Conte diceva che non può diventare in un ristorante da 100 euro con 10 euro la stessa squadra è andata in finale di Champions League e se non era per quel bastardo dell'Audio di Tokakir che non dà rigore sul Pagba magari la vinciamo pure e poi ci ha riportato due anni dopo questo è uno che la Champions League ce l'ha non c'è niente da fare Allegri è un allenatore della Champions League a me non mi interessa se non vinciamo lo scudetto ma se ti fa queste partite in Champions League e soprattutto se te le fa anche gli ottavi ai quarti in semi finale poi magari in finale è tanta roba 8 Allegri continua così tu goditi la Champions League che secondo me è la cosa che ti manca di più nel tuo non l'hai vinta no? l'hai vinto tutto ti manca la Champions League ecco cerca di lavorare per vincerla fai felice a me fai felice a tutti quelli che guardano questi video e a tutti gli Juventini grande Juve vi do appuntamento domani mattina con il 95esimo minuto sul tardi no? forse più sul tardi lo caricheremo sul tardi mentre invece domani mattina come sempre alle 7 vedremo se sarò felice se avrò dormito con un Good Morning Juventus